segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te ma vi vedo tutti molto attenti su questa vicenda del gruppo parlamentare del partito democratico mi pare la prima volta che accade questo e sono sorpreso però insomma sono sono vicende io credo che abbia fatto bene furfaro fare quella battuta che avete ripreso non mi pare una cosa sconvolgente sono vicende normali in un gruppo parlamentare che discute decide su chi debba essere responsabile il gruppo parlamentare del partito democratico partire dalle sue elezioni dalle elezioni che ci sono state alle politiche non si compone solo di esponenti del pd perché alle elezioni forse lo ricorderete la lista del pd aveva figure anche non del partito democratico ai sensi della legge elettorale quello che è stato fatto è stato quello di scegliere una figura proveniente quindi non dal partito democratico nell'ambito del gruppo parlamentare non mi sembra una cosa sconvolgente su questa in particolare sulla questione di ciani peraltro figura molto autorevole che viene da comunità di sant'egidio una storia importante io che sono diciamo sempre stato iscritto a tutte le organizzazioni politiche addirittura ho preso la testa della federazione giovanile comunista 14 anni quindi proprio e leggevo roncone quando scriveva sull'unità devo dire che diciamo non sono sconcertato dal fatto che ci sia una figura esterna al nostro mondo nella gestione di un gruppo parlamentare adesso lo lo convinceremo a fare la testa così staremo tutti più tranquilli ci fa passare per degli psicotici così il punto vero e non il punto vero e non voglio dire che ha fatto un'intervista ciani ha detto che non si scriverà al pd che è una cosa un po' strana cambiato la linea politica del partito sull'argomento la nostra forza politica perdoni adesso dopo il suo suggerimento io chiederò al mio direttore di occuparmi di calciomercato ma posso ho capito non interrompermi però sto devo concludere tanto chiamocci del lei però perché magari viene meglio va bene guardi allora concludo e ho letto anche l'articolone che ha fatto giorni fa molto duro rispetto alla gestione di ellis line io guardi non lo condivido per nulla nel senso che non condivido questa rappresentazione che si sta fornendo ogni giorno riguardante ellis line come una figura che non prende posizione che non dice nulla che non affronta i temi non la condivido credo ad esempio che abbia fatto molto bene come prima uscita al parlamento non su vog al parlamento a porre la questione del salario minimo ha fatto molto bene a insistere in questi temi diciamo unica esponente unica leader nazionale nell'arco politico a farlo a sostenere il tema del diritto alla casa e del caro della lotta al caro affitti criticando giustamente il governo meloni in relazione al fatto che non ha messo risorse sul caro affitti per il fondo sostegno affitti credo che queste sono lotte politiche che dobbiamo fare molto di più rispetto a quanto stiamo facendo dobbiamo occuparci innanzitutto di queste poi come partito storicamente abbiamo le nostre dinamiche storicamente stiamo facendo più confusione di altri e anche in questo caso e della meloni diciamo ma tranquillità secondo me abbia giustificato il nostro stupore insomma sa io la conosco da tanto tempo ma io la stimo però francamente è una cosa un po originale quella che è accaduta che volevi dire senaldi è l'unica cosa che volevo dire senaldi è l'unica cosa che voleva